Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Il motivatore di oggi è piuttosto noto al grande pubblico italiano. Non appartiene soltanto alla ristretta cerchia degli appassionati. Anche se non ho mai capito sinceramente perché ogni cerchia degli appassionati, qualunque tipo di cerchia degli appassionati, sia sempre una ristretta cerchia degli appassionati. Non può essere una normale cerchia degli appassionati o una media cerchia degli appassionati. No, è sempre una ristretta cerchia degli appassionati. Poi va a vedere quanto è ristretta. Non so, varia da una cerchia di 10 persone a una cerchia, per quanto riguarda un'altra nicchia, di appassionati, di, non so, 200.000 appassionati, un'altra ancora di 20 milioni di appassionati. Ma al di là di queste oziose digressioni in merito ai tic linguistici della nostra comunicazione mediatica, a cui il motivatore di oggi, peraltro, appartiene in maniera egregia, essendo uno dei suoi esponenti di punta e senza dubbio più competenti e colti. Sto parlando di Paolo Mieli, già direttore del Corriere della Sera, nonché corsista di grande esperienza e, appunto, conoscenza e competenza, ma anche saggista, storico, politologo e personaggio televisivo anche. Ecco, però, questa motivazione di oggi riguarda una mia personale esperienza, una mia diretta esperienza, con Paolo Mieli, appunto. Brevissima esperienza, anzi direi brevissimo incontro con Paolo Mieli. Lui non si ricorda certamente, ma ricordo io. Alcuni anni fa, direi un po' di anni fa, venti anni fa, e poi fino a sedici, quindici anni fa, ho lavorato, tra le tante cose che ho fatto, come collaboratore per un settimanale del gruppo RCS che si chiamava Visto, un settimanale familiare, come si diceva allora. Non so se si dica ancora così. È uno di quei settimanali che oggi ha il sapore davvero di un tempo, come oggi è gente che sono gli unici rimasti presenti sul mercato. Non so quanto possano vendere, mentre Visto è stato venduto a un altro gruppo editoriale nel corso degli spezzatini, che si sono sempre più succeduti, a partire dalla crisi ormai irreversibile della stampa cartacea, cartacea, man mano che il web è diventato il luogo di ricerca delle informazioni, di fruizione delle informazioni. Allora invece, vent'anni fa, e fino a quindici anni fa, ancora la carta stampata se la cavava piuttosto bene. E io facevo parte di quel nutrito gruppo di collaboratori, come si dice, occasionali, a Cottimo, mi verrebbe da dire, perché ero pagato a pezzo, che affollavano tutte le redazioni dei giornali. Ebbene, io passavo due o tre giorni a settimana andando avanti e indietro da Bologna a Milano, e quindi mi pagavo ovviamente il treno, e poi mi pagavo la metropolitana, poi tornavo indietro, praticamente vivevo in treno. E poi quando arrivavo lì, quando arrivavo in redazione, aspettavo che mi commissionassero il pezzo, cioè mi dicessero che cosa dovevo scrivere, e su cosa dovevo avvertere l'articolo, o gli articoli, o le rubriche che dovevo seguire. Poi le impaginavo con l'allora programma di Express, di impaginazione che si chiamava Express, e chiudevo il mio pezzo, e poi me ne tornavo indietro, riprendevo il treno, riprendevo prima la metropolitana, poi riprendevo il treno, andando sempre di corsa, e poi tornavo esausto, nella mia ridente città di Bologna. dalla stazione andavo e venivo in motorino, e ahimè, mi beccavo qualche multa ogni tanto, perché stanco com'ero, cercavo di accelerare il più possibile il ritorno a casa, saltando qualche semaforo. Ho raccontato questo perché ha un senso, perché in questo tragitto, appunto, c'era un pezzo che io facevo a piedi, dalla metropolitana fino alla redazione, fino alla sede di RCS allora, che francamente non ricordo più dove fosse. Ecco, dovete sapere, penso che possiate immaginarlo, che l'ambiente di un certo tipo di giornalismo, diciamo così, mainstream, come quello della televisione mainstream, che ho avuto poi occasione successivamente di conoscere, è un ambiente, diciamo così, dove un po', per usare un termine chiaro, se la tirano tutti quanti. Dal più blasonato direttore di settimanale che va in televisione a parlare all'ora della vita di Lady Di, a quel tempo andavano di moda, gli esperti della Casa Reale, ecco, dai direttoroni che andavano ospiti ai talk show, fino al portiere, anzi, ai portieri, davvero se la tirano, o almeno se la tiravano tutti. È una cosa che a me ha sempre lasciato perplesso, questo fatto di darsi delle arie, non ho mai capito se, come si diceva, è una forma di timidezza, oppure è invece soltanto una forma di maleducazione. Il clima poi milanese, del giornalismo milanese, contribuiva ulteriormente a rafforzare questo modo di fare. E insomma, nessuno praticamente ti salutava. Tu potevi rivedere cento volte le stesse facce di qualche altra redazione, di qualche altro giornale settimanale, perché erano tutti poi collocati come in un bunker, nello stesso posto, negli stessi posti. Sembrava un ospedale più che un bunker, aveva proprio quella, potete immaginare, quelle luci bianche raggelanti da ospedale, sembrava veramente di stare in un ospedale. Vorrei aggiungere in un brutto ospedale, ecco, se mi è permesso. E io che allora non ero più giovane, ma comunque ancora giovane, restavo veramente perplesso, e quell'esperienza contribuì a rafforzare in me la convinzione di essere un alieno, perché appunto salutavo tutti, sorridevo a tutti, ma nessuno mi salutava né mi sorrideva. Eccezione fatta per Paolo Mieli. Ricorderò sempre, per tutta la vita, questo episodio, questo attimo, stavo camminando dalla metropolitana fino alla sede di RCS e davanti a me, davanti a me, cioè camminava davanti a me, c'era Paolo Mieli. Io lo riconosco subito, ovviamente. Continua a stagli una certa distanza dietro, arriviamo fino praticamente all'ingresso di RCS, io mi avvicino alle sue spalle, lui si accorge della presenza di qualcuno alle sue spalle, si volta, mi vede, non mi ha mai visto in vita sua naturalmente, e mi sorride e mi dice Ciao, tutto bene? Beh, da quel momento Paolo Mieli è diventato il mio idolo, l'unica persona in tutta RCS per tutti gli anni in cui ci sono stato che ha salutato qualcuno che non conosceva semplicemente per educazione e rispetto dell'altra persona. E questa allora è la motivazione di oggi che ci proviene direttamente dal grande, grandissimo Paolo Mieli. Saluta e rispetta chi incontri, chiunque gli sia. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. A domani a domani Grazie a tutti.